Quello che mi aspetto è una squadra che rappresenta un po' in campo quello che è stato il progetto per cui è stata chiamata in questa situazione. Quindi tanto entusiasmo, tanto voglia di dimostrare, tanto coraggio di fare le cose e questo è un po' quello che chiederò come biglietto di visita alle ragazze per questa prima partita. Derby contro le campionesse d'Europa, la prima in casa, la prima di campionato, tanti i fattori emozionali, come si gestiscono? Vedremo, cominceremo a conoscere anche un po' le risposte delle nostre ragazze. Per quanto riguarda l'emozione più grande, penso che sarà il fatto di esordire in casa davanti al nostro pubblico, che spero sia numeroso. E quindi questo penso che sia il fattore più importante dal punto di vista emotivo. Poi la squadra avversaria, sì, sono campioni d'Europa, però ha cambiato molto la squadra rispetto all'anno scorso. Quindi l'emozione secondo me è più legata al nostro impatto con Cuneo. Il coach in questa stagione...